Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Roger, come potete vedere oggi siamo su un nuovissimo video di Clash Royale Come potete vedere siamo saliti in Arena 10, quindi Arena Leggendaria A ben 3195 coppe Tanto doniamo qua questo Ma è tutti i barbari scelti Questo è il nostro deck, comunque ho trovato anche lo stregone elettrico, eccolo qui Quindi ci mancano solo queste due Mi sembra l'Arena questa qua tra due giorni, perfetto E escerà due giorni, mi sembra anche questo qua insieme all'Arena Il Goblin Cerbuttaniere Ok, quindi ci avremo due barrate partite Vediamo un po' come va Allora, vediamo un po' Ok Anche io uso i barbari scelti, è solo che ce li ho bassi, ce li ho al 9 Perfetto Quindi possiamo iniziare subito con One Minatorelli Orta di Scherri, perfetto L'ho fatta splitta molto bene Principessina al 2 Eh no, me la fanno fuori Ci sta, ci sta, ci sta Subito ripartiamo con il Domatore di Cinghiali Moschettiere Goblin scarica zap Perfetto Perfetto Mettiamo questo, possiamo anche questi Abbiamo fatto un bel po' di danni alla sua torre Quindi No, non voglio sprecare di sì Però Lo devo fare per forza per la principessa Stiamo Due colpi del mio valore e via Allora Ahia, questo è un problema Non tanto però Perché abbiamo il nostro Pack Grandissimo Vai Principessa Va bene Guarda se mi attacca col Domatore è un macerdo Ok, perché c'è, perché non c'avevo l'elisir Quindi Oh, gli chiamo la connessione perché Uniti, il Domatore ce la do E io provo a fare una bella cosa Così Mamma mia Che pro Che pro Mamma mia Sì, poi va Questa, tutto, grazie Guardate, non so se l'audio È basso o alto Perché mi do un attimo regolare Perché Attacca subito Di Cattiveria lui Però Noi l'abbiamo fermato Diciamo Più o meno Mettiamo Minatore là Barbariscelti Ma Sì, dai Eh, eccolo qua Questo qua è un macello Perché probabilmente Ci ha buttato la torre giù Però Di lì Guardate Guardate di là Guardate di là Sì, mette la principessa Lui mette il Domatore Io ci metto questa I scherzi Perfetto 9 E 10 Possiamo iniziare a fare Così Molto bene E io direi che Ce la siamo portati a casa Questa partita Mamma mia Prima partita vinta E ora ci daranno Un paule d'argento Ovviamente Eh, lo sappiamo Ok Eh, dobbiamo sti Barbariscelti Perché Dai, cazzo Che connessione Perché Ok Vai Ultima corona Per il po' della corona Allora Allora Livello 10 1229 coppe Parte con Parire coppe Strano Aia L'ho messa brutta Sta scarica Brutta come che Ancora un altro parire Vabbè Ok Ci sto Vai Barbari 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 Non vi fate beccare Alla torre Bravissimi scherzi Terana Per la principessa Qui per difendere Eh, non No, ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato tantissimo Vabbè Comunque Eh, smetto Come ho detto E che ci mettono Là il mini pecca O il barbari scelti Il barbari scelti Scusate però Volevo mettere il Cosa, come si chiama Volevo mettere i barbari scelti Al posto del mini pecca Vabbè Due hit Là ce le Dovrebbe dare Mamma mia Sto sbagliando A splittare i danni Eh, però 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 Io fino a mo Ho visto che Che c'ha Questo qua È barbari È il barile goblin Lo specchio Vabbè Proviamo ad attaccare Il domotore Ah, è la principessa Vediamo come si difende Ah, è barbari Di qua La principessa Là E mo I scherri Sarebbero sprecati Lì Appunto Sta cazzo di principessa Mi dà un fastidio Dovrebbe mettere La scarica Lui Vediamo un po' No Ah, l'orda di scherzo Mettiamo Scarica Mi ha un po' In ritardo La connessione Però Vabbè Capirà Mettiamo Il nostro minatore Lì Che dovrebbe Far danni Alla torre Un bel po' Di danni Vediamo Per forza Questo Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Principessa Qua Ma io Qua ho fatto la torre Ok Lui non ha I barbari Adesso E nemmeno E di sirpenza Quindi Quella torre È andato A ragionare Lì Perfetto Quindi possiamo Ahia 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 Questa fa male Qua mi farà male Tanto male Dai 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 Barbaricelti e sgherri Mamma mia Che danni A quella torre Mamma mia Quanti danni Mettiamo Subito La pallavola Infocata Anticipi No No Non ci credo Non ci credo Che culo Che culo Che culo Che culo Che culo Non ci credo Qua penso Che ci rimettiamo Ah no no Ho vinto Ho vinto Ho vinto E non è detto Che ho vinto Ragazzi Si Ho vinto Che là sta Con la veleno Vedo un attimo Quanti Sette minuti Di registrazione Quindi Quindi ragazzi L'episodio di oggi Può finire qui 8 minuti Di registrazione Va bene Quindi Finiamo con Questo pole Della corona Dove ci uscirà La leggendaria No La epica Il golem Dai ci sta Ci sta Ci sta Buona Quindi Ragazzi Da Roger È tutto Lasciate tanti pollici In su Bella ragazzi Di registrazione